Dove sono stato soppate? Non voglio parlare Und Kleksu 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 la la il la la l'ho detto l'ho detto ho detto il cappotto e la parola magica no! mamma! che camper fai? vieni dai! mamma! ma poi mi dà la colpa a me si lo sento l'ho detto ma più no! no! che è impossibile secca 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 vai adesso! eeeh vabbè no! va come costruissimo! si è pulito questa volta la stanchetta che è più ora? prende! prende un po' che c'è! prende un po' che c'è! prende un po' che c'è! no! ti prende un po' che c'è! forse no! vai! ti prenderai di molto comunque non puoi non puoi non puoi a per non puoi fare fuori Gritta? E poi cambia la serie. Eh, mi piace a fare la festa. Oh, comunque la storia è bellissima. Sui nomi, i suoi amici. L'80% gustissimi. No, l'80%. L'90% gustissimi. Niente dai, dovete cambiare una squadra.